Ciao, benvenuti a This Is My Architecture. Sono Antonio di AWS e oggi siamo qui a Milano con Alberto di Docebo. Ciao Alberto. Ciao Antonio, è un piacere essere qui. Alberto, raccontaci un po' cosa fate in Docebo. Docebo è una piattaforma e-learning per la formazione aziendale. È modulare, permette la formazione formale ed informale ed è supportata da servizi di intelligenza artificiale. Ok, oggi siamo qui per parlare di questa architettura completamente serverless per la gestione degli eventi all'interno del vostro Learning Management System. Puoi darci qualche dettaglio? Assolutamente. I nostri micro servizi dell'LMS hanno la necessità di comunicare tra loro questi cambi di stato dei dati. Pertanto avevamo la necessità di definire un servizio disaccoppiato per gestire questi eventi. Abbiamo appunto sviluppato EventBus che è diviso in un modulo di sottoscrizione e in un modulo di dispatching. Ok, il modulo di sottoscrizione immagino abbia un entry point in API Gateway. E poi cosa accade? L'API Gateway gestisce delle Lambda per esporre degli endpoint rest. La sottoscrizione dei vari micro servizi arriva alla Lambda la quale esegue la richiesta e scrive la sottoscrizione in un DynamoDB. Ok, mentre Cognito è usato per la parte di autenticazione? Cognito è usato per la parte di autenticazione poiché abbiamo avuto la necessità di rendere sicura la comunicazione intra-service. Pertanto tutti i nostri micro servizi utilizzano Cognito per scambiarsi il token JVT e quindi tramite API Gateway utilizziamo l'autenticazione tramite la richiesta Token Cognito per validare se un micro servizio può effettivamente sottoscriversi o meno. Ok, quindi una volta salvate le sottoscrizioni in una tabella DynamoDB immagino che i vari micro servizi utilizzino SQS come entry point, corretto? Corretto. Tutti i nostri micro servizi se devono notificare un cambio di stato scrivono l'evento all'interno della coda principale SQS. Questa coda tramite un SQS to Lambda Trigger esegue una Lambda che si preoccupa di definire a quale delle code secondarie dover riscrivere il messaggio. Pertanto la Lambda leggerà le sottoscrizioni dal DB Dynamo per definire dove scrivere il messaggio. Ok, e una volta che i messaggi sono in queste code secondarie cosa accade? Accade un po' la medesima cosa. Queste code tramite un Lambda SQS Trigger eseguono la Lambda dedicata a quella coda di servizio che sempre attraverso Dynamo leggerà a quale endpoint dispacciare il messaggio e appunto a questo punto il messaggio verrà deliberato. Ok, nel caso in cui ci sia un errore durante il dispatching del messaggio cosa accade? Il messaggio viene perso oppure avete un meccanismo di gestione dell'errore? Abbiamo un meccanismo di gestione dell'errore, quindi se la Lambda non riesce a dispacciare il messaggio, la Lambda reincoda il messaggio in una coda di errore, una coda dedicata. Questa coda viene svegliata tramite CloudWatch da una Lambda che sostanzialmente ne legge i messaggi e riscrive i messaggi nelle code di servizio per riprovare ad effettuare il dispatch. Ok, qual è il principale beneficio che avete riscontrato in questa architettura? Allora innanzitutto essendo completamente serverless abbiamo un beneficio di scalabilità completa, noi abbiamo stimato un carico di circa 20.000 messaggi al secondo e questa architettura ci permette di mantenere questo carico. E come i tempi di sviluppo? Sono stati notevoli nel senso che abbiamo impiegato veramente poco a sviluppare questo servizio. Ok, avete in mente delle possibili evoluzioni future? Sì, nel caso dovessimo avere dei carichi maggiori stiamo pensando di sostituire la coda SQS con Kinesis. Le code secondarie che sono state definite come code generiche possono essere di tipo SQS o potranno anche essere di tipo Dynamo Stream. Grazie Alberto, molto interessante. Grazie a te. E grazie a voi per aver seguito This is my architecture.